Perfino Alex Zanardi è finito nella centrifuga impazzita delle polemiche intorno al referendum di domenica. Il sindaco di Suvereto, in provincia di Livorno, Giuliano Parodi, eletto nel 2014 con la lista civica Assemblea Popolare, aveva infatti pubblicato sul suo profilo Facebook questo messaggio. Alex Zanardi vota sì, peccato lo facevo più in gamba, seguito da uno smile. Esplode subito la polemica sul web, il sindaco rimuove quanto postato a proposito dell'ex pilota e campione paraolimpico Alex Zanardi, poi seguono insulti e minacce, in serata il tentativo di spiegare del sindaco. Nessuna volontà di insultare Alex Zanardi, che è una persona meravigliosa, ha detto, bensì puntare il dito contro una campagna referendaria che sta degenerando e che si basa ormai solo su come voteranno personaggi noti. Il sindaco di Suvereto spiega poi di aver per questo scelto di buttarla in caciara, usando Facebook. Da giorni ha detto pubblico battute su questa pessima campagna elettorale, ad esempio chiedendo se il CNEL sia una preposizione articolata o un ente inutile. Le battute le faccio e le prendo. Conosco la storia di Zanardi, è una persona meravigliosa. Poi Giuliano Parodi invita Alex Zanardi a Suvereto e conclude, non mi sembrava una battuta particolarmente brutta.